Per quest'anno il 39esimo premio fedeltà alla montagna è andato a un testerato dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi, Fortunato Flaviani, che gestisce un'azienda agricola Dovindoli. Per l'ANA Abruzzo un ulteriore riconoscimento alle loro attività. È caduto che l'Associazione Nazionale Alpini ogni anno dà un premio di fedeltà alla montagna per gli alpini in quota. Noi della sezione Abruzzi abbiamo candidato un nostro alpino di Ovindoli e la Commissione Nazionale il sabato 6 di ottobre si è riunita e ha dato a questo ragazzo il premio di fedeltà alla montagna che verrà onorato in luglio del 2019. È un ulteriore riconoscimento ed è un continuo riconoscimento da parte della nazionale. Ci hanno dato di nuovo questa manifestazione a livello nazionale, sarà presente il Labaro in quell'occasione, saranno presenti i candidati e i premiati degli anni precedenti, i consiglieri nazionali e io spero che per l'Abruzzo è ancora un ennesimo momento di riconoscimento per le sue attività. Le premiazioni ci saranno il 21 luglio a Dovindoli. La Commissione che io presiedo ha valutato tre candidati, uno dalla Valtellina, uno dalla Valcamonica e il nostro socio abruzzese. E praticamente è stato scelto per le sue capacità e il suo impegno che opera in montagna e in quota, è stato scelto come premiato per il 39esimo premio di fedeltà alla montagna. Il premio di fedeltà alla montagna è un premio che dopo la donata nazionale è una manifestazione più prestigiosa. Quindi ogni anno la partecipazione è molto grande come è successo quest'anno a FAEDIS che abbiamo dato il 38esimo premio di fedeltà alla montagna.